Musica 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 C'è te noti la macchina pianta che ti rispianta, c'è anche quella di video a tua nota Perché a tutti gli occhi è un animista e un po' sai è, si va con la giusta La musica è in crisi, questa è matematico e volmente ridendo gli occhi al concetto discografico Non metterlo da parte la tua attività, siamo l'esempio di una volta finita Non ho mai avuto il suono, non ho mai avuto il suono, non ho mai avuto il suono 5 minuti la metto, mi sono l'esempio di una volta finito discografico Dammi solo un minuto 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 dammi solo un posto tale Così sono quelle chiane vado a seguire i visit ma non è giudice voglio cantare di scrivere questa situazione poi sto pure in tutta la nazione con la fronte di fiori gente con un compagno che potrebbe irmi farsi nel cuore e mi piacciono senza solo il titolo e mi raccoglio e mi pazzo nel canale che afferma la sua età e come un vattino di seconda media di un bambino e di un bagno sovraggio e non credo la sera Paolo Sintoni non per questo ritsto che voglio cantare non posso capire quello che dà la sera ma io pagherai me lo voglio guardare non voglio vivi di con se da mi fa che delinassare e faccia il rapido di un firito di vena che mi segue lasciati ma sono in sicurezza e sempre la faccia e la faccia ma può tenire un petto che non ha mai avuto che non hai avuto da vi farco il lavoro del campo e tutti ma questo foglio di vittoria Oolo tecniche di Gieman Oolo tecniche di Gieman Benarvi il Varega Ocolo è un giudodamento Tu**no che farai Io sono un giudadone Tu**no e un giudadone Benarvi il Varega Benarvi il Varega Ocolo è un giudadone A me Cielo tutti da pagare Fanno 어디 da? Noi sono i tanti Grazie!